Natale 99, mi licenzio da Bain, a quel punto lì, infatti io dico non sono partito da zero, sono partito da sotto zero, perché a quel punto devo restituire a Bain i soldi che mi avevano prestato per fare il master come borsa di studio e quindi mi trovo con un debito notevole, di che debito parliamo? Mi sembra che fossero 120 milioni di lire, vado a pranzo con un amico, gli racconto questa cosa qua, gli racconto della mia idea e lui mi diceva non ti preoccupare Federico, te li do io, tira fuori il portafoglio e mi fa un assegno e gli dico beh andiamo da un notario, andiamo da un avvocato, ti scrivo un pezzo, no ma no, intanto io so benissimo che tu me le restituirai e devo dire in effetti che poi dopo gli ho dato delle azioni di Jux e si è preso una barca pazzesca.